ci mettiamo un jingle bell sotto eh sì, ecco, magari vediamo il sonore no? il problema è che è così grande che non si vede io volevo fare il mercato tutto della frutta, del pesce vuole fare una cosa strafighissima, non l'abbiamo fatto in tempo hai visto che c'è anche Padre Maronno? c'è anche il mare in realtà eh certo tu lo conosci Padre Maronno? sì, lo conosco è là, guarda l'albero l'albero è quello che ti ha acceso prima con le lucine quello a fare lì doveva essere quello che indica eh, quel pelo marrone ha fatto il fratello l'anno scorso dai, Padre Maronno ci deve stare per fare senza il fratello purtroppo non riesco a dargli un'inquadratura eh, ma perché non è facile? oggetti, cioè senti, mi spingi la luce qua grande madonna, non lo prendo non si vede? no, non lo prendo tutto ah, neanche io ci ho provato con il mio cellulare vabbè, però devo fare pure le cose del pesce davvero la mia e mia mamma accendimela fatto eh è un minuto e 44 praticamente è una cosa piccolissima solo che, cioè dai io non ho mai visto uno così grande no, dai ce ne sono uno dei più grandi grazie a tutti